Eccellenza, un dialogo con gli studenti che ha toccato molti ambiti, soprattutto quello direi anche della responsabilità in questo momento difficile. Lei ha parlato di un umanesimo cristiano che è una risorsa, anche se talvolta è un po' oscurato dalla tecnologia. Cos'è questo umanesimo cristiano e quali punti cardine? Beh, l'umanesimo cristiano ha come punto cardine la considerazione della persona, ecco che ogni uomo, ogni donna si deve considerare nella sua dignità irripetibile di persona e quindi in questo ha un suo compito specifico, una sua vocazione particolare e una sua responsabilità per il mondo. Quindi questi sono quei tratti che mettono in evidenza la libertà di ogni persona, la dignità di ogni persona e la sua responsabilità, non solo per se stessa e per la sua vocazione, ma per il bene del contesto in cui vive. Anche le periferie. Lei ha detto che è forse non del tutto corretto parlare di periferie, meglio parlare di quartieri. Qual è la differenza? Beh, la differenza è che la periferia è un termine almeno tendenzialmente spregiativo, cioè dice il bene al centro e invece progressivamente lontani dal centro si realizzano condizioni meno desiderabili di vita o di degrado, eccetera, eccetera. Invece il quartiere vuol dire che ci sono dentro l'unica città sezioni che si caratterizzano per una loro vivacità interna o per una loro caratterizzazione urbanistica e che possono evolvere anche in modi imprevedibili per cui anche un quartiere che anni fa poteva essere indicato come un quartiere degradato per una serie di fattori può diventare un luogo di innovazione, di eccellenza e come si diceva anche nel dibattito il rischio è che la riqualificazione della città finisca per renderla una città per ricchi e quindi che appunto la riqualificazione vuol dire sgombrare coloro che non possono permettersi di vivere dove hanno vissuto quindi il tema di una edilizia sostenibile, popolare, accessibile è un tema che merita di essere approfondito. Un dialogo particolarmente interessante, studenti, l'Arciviescovo di Milano, lei come rettore, chiamati a sostenere il mondo, come si può sostenere il mondo in questo momento così difficile? In un momento di grande incertezza che è quello che stiamo vivendo tutti anche di difficoltà, di crisi, di paure dopo il Covid in pieno di una guerra proprio in suolo europeo secondo me proprio in questi momenti l'università arrivesse a un ruolo fondamentale che è quello di aiutare i nostri giovani a scoprire il proprio talento e attraverso la scoperta del proprio talento e soprattutto lo studio e quindi la costruzione di una sapienza sul proprio talento ecco che da lì noi possiamo ricostruire la speranza di cambiare le cose e quindi le parole del pensiero critico e della sapienza secondo me sono parole che non appartengono ovviamente a una religione, questo non era un dialogo religioso ma un dialogo invece che si focalizzava proprio sul ruolo dei giovani e su quello che i giovani possono fare per il futuro quindi davvero una chiamata a essere attivi e fiduciosi